Vediamo come utilizzare il concetto di modulo di un vettore e quello di piano di Ergang-Gauss per rappresentare geometricamente i nostri numeri complessi. Facciamo questo attraverso un esercizio che ci chiede appunto, assegnati alcuni numeri complessi, di rappresentarli sul piano di Ergang-Gauss. Il primo numero che vogliamo rappresentare è meno tre mezzi i. Quindi, osserviamo che meno tre mezzi i è un immaginario puro. Calcoliamo il suo modulo. Beh, in questo caso il modulo del numero complesso coincide con il valore della parte immaginaria, quindi tre mezzi. Osserviamo che anche qui, essendo radice quadrata di qualcosa al quadrato, deve essere una quantità positiva. Tre mezzi è il suo modulo, quindi la freccia avrà una lunghezza di tre mezzi, ma se guardiamo bene la lunghezza, deve essere espressa lungo i, quindi lungo, scusate, lungo l'asse immaginario col valore negativo. Quindi la rappresentazione sarà appunto questa data dalla freccia rossa. Prendiamo adesso il numero z uguale radice di 5 più radice di 5i. La parte reale di z è radice di 5, la parte immaginaria di z è sempre radice di 5. Calcoliamo il suo modulo. Radice quadrata di radice di 5 al quadrato più radice di 5 al quadrato, quindi radice di 5 più 5, ovvero radice di 10. Disegniamo radice di 5 lungo l'asse reale, radice di 5 lungo l'asse immaginario. Il punto che otteniamo lo congiungiamo con la freccia all'origine. La lunghezza di questa freccia appunto sarà radice di 10. Ancora, z uguale meno 4 terzi più un terzo i. Parte reale meno 4 terzi, parte immaginaria un terzo. Per rappresentarlo calcoliamo il modulo che sarà meno 4 terzi al quadrato più un terzo al quadrato, tutto sotto radice, ovvero radice di 16 noni più un nono uguale radice 17 noni, ovvero radice 17 fratto 3. Andando a rappresentare un terzo lungo l'asse immaginario e meno 4 terzi lungo l'asse reale, otteniamo questa rappresentazione del numero complesso. Ancora, z uguale radice di 3 quarti meno un quarto i. Parte reale radice di 3 quarti, parte immaginaria meno un quarto. Calcoliamo il suo modulo. Radice di 3 fratto 4 al quadrato più meno un quarto al quadrato, tutto sotto radice, ovvero radice di 3 sedicesimi più un sedicesimo, che sarà uguale a radice di 4 sedicesimi, ovvero radice di un quarto che fa un mezzo. Radice di 3 quarti lungo l'asse reale meno un quarto lungo l'asse immaginario e otteniamo quindi la rappresentazione del nostro vettore.